Il Ministero dell'Ambiente e della Sostenibilità Energetica ha espresso parere favorevole per i lavori per oltre 9 miliardi di euro, progettati da RFI per i primi due lotti dell'alta velocità Salerno-Reggio Calabria, lavori già iniziati nel tratto Salerno-Battipaglia, con un finanziamento di oltre 2 miliardi, inseriti tra le priorità del PNRR. Si tratta di una decisione salutata con grande soddisfazione dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che di fatto permette all'iter dell'opera, che costerà oltre 11 miliardi di euro per i soli primi due lotti, di compiere un passo in avanti decisivo in vista dei nuovi lotti da appaltare e delle scadenze previste. Sono passati due anni dal disco verde del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici al Ministero dei Trasporti al progetto di fattibilità tecnico-economica dei primi 33 chilometri di strada ferrata, tra Battipaglia e Romagnano, dal valore di 2,7 miliardi di euro, finanziamento con risorse del PNRR. Con la Salerno-Reggio Calabria ad alta velocità si garantirà l'accesso al sistema ferroviario più veloce del Paese di diverse zone ad elevata valenza territoriale, quali il Cilento e il Vallo di Diano, la Cossa Ionica, l'Alto e il Basso Cosentino, l'area del porto di Gioia Tauro e il Regino, oltre che l'accelerazione e la velocizzazione dei collegamenti verso Potenza, verso la Sicilia, verso i territori.